Anche a Bussolengo si festegge la magia del Natale con il villaggio di Natale in piazza 26 Aprile, la giostra cavalli per i bambini, tante iniziative per tutto il periodo natalizio e ovviamente la grande e divertente pista di patinaggio in piazzale Vittorio Veneto. È stato presentato come un Natale nel segno dell'amore, quello che si festeggia quest'anno a Bussolengo. Bussolengo che, come sappiamo, ha come suo patrono San Valentino, protettore degli innamorati. Un Natale insomma che, con i tanti eventi, in programma fino al 7 gennaio, vuole entrare nel cuore di grandi e bambini, fra mercatini, luci, musica e spettacoli. Molto suggestivo è l'allestimento natalizio in piazza 26 Aprile, con il villaggio di Natale a cui si accede dal grande cuore rosso e nel quale si può ammirare la casa di Babbo Natale, la slitta e la stalla con le renne. Per la gioia dei bambini, poi, il 23 e il 24 dicembre, sarà ancora possibile incontrare Babbo Natale, che raccoglierà le loro letterine. Già dal 25 novembre, in piazza Vittorio Veneto, è stata allestita la grande pista di patinaggio sul ghiaccio, una delle più grandi della provincia di Verona. La pista è aperta tutti i giorni feriali, dalle 15 alle 19 e nei prefestivi festivi dalle 10 alle 22 e sarà aperta anche il 31 dicembre. L'ultimo giorno dell'anno, sempre in piazzale Vittorio Veneto, è in programma una grande festa con musica per dare il benvenuto all'anno nuovo.